Salve bella gente e quel vostro Jacoposchi di fiducia che vi parla Oggi siamo qua, tornati con le super-hyper reazioni di combattimenti tra animatronici Mamma mia ragazze, è da tanto che non le faccio una La prima che ho fatto è diventata super super virale Più di 11.000 visualizzazioni Le altre, così così Quindi spero che questa qua vada meglio delle altre due Quindi la seconda e la terza Vabbè possiamo iniziare Ci sono molti scontri sicuri di bridge fake Quelli distrutti, quelli dead rock Quelli sicuri di bridge meloda Melodies, come si chiamano Allora ragazzi, io faccio casuale Iniziamo Ok, questo qua è dead rock contro Sigrid bridge melodies Andiamo Andiamo un po' Ok, Orval è subito stato attaccato Da Monti Monti, Monti Piadete Monti Ragazzi, se sapete perché sto cantando questo E chi l'ha cantata Scrivetemelo sotto nei commenti C'entra come fare bene a Freddy Se si chiude di bridge Chissà che avete visto il video Ok, intanto qua Il Purcellu Sta combattendo contro Freddy Si ha fatto pure il piercing Spero che muoia Solo perché si è fatto il piercing Ok Guarda, gli stai facendo proprio male Mamma mia Di sicuro gli è rotto lo stomaco E la misera Però questo qua Un po' esagera Cioè, gli manco un braccio E mezzo è rotto Gli usi pure la falce Della morte Un essere umano Dopo tutte quelle coltellate Ora divenza È morto Sarebbe morto Ecco Bene, adesso siamo sicuri Che è morto Sì È sicuro Ma Ah Ok Giustamente Signor Freddy Fake Aiutalo Penso di merda Sei un brutto schifoso Spero che sia il prossimo a morire Vai or vai Vai Bello questo nascondiglio Assolutamente invisibile Cappero la rana Aiuto No, poverina No No, no Quando finisce la musica E mamma mia Sono fortissimi questi qua Cioè, raga Il rispetto però Un po' esagerato Cioè, sono troppo forti È la miseria Presa a calci Oh Almeno difenditi l'onore Toh, tiragli le bastonate Vai Vai Non intendeva Che ti dovevi far tirare Va bene Sempre bastonate sono Dai Le possiamo accettare Beh, giustamente Beh, giustamente Un calcio Spaccare la testa È giusto Giusto Adesso è rimasto solo Orville Buona fortuna Vediamo se è quasi finita No, manca ancora un po' Ma penso che non abbia tante chance Probabilmente spaccherà la porta Oppure Ci sono dei barili infiammabili Non è che lo fa esplodere insieme a lui Che io lo dico per esperienza No Non insieme a lui Ma lui giustamente È più resistente del piombo E quindi non gli ha fatto un caffero Eh, vabbè So quattro contro uno Coraccio Mi dispiace per te, bro Ok, questo qua non so quale sia Poliziotti Ah, ok Queste qua sono le Reactivated contro Contro gli animatronici rotti Vai, Super Freddy Freddy mezzo spaccato in due Ma comunque Artigli A voce Dovrebbe far più il cantante Ma tanto È meglio combattere Per la giustizia No Questo qua sarà Penso Ah no Un RPG Giustamente Bravo Reddy è andato Il prossimo Mamma mia Zombie Sì, sì Figuriamoci se ce la fanno Con quelle poverine pistoline Figuriamoci Ma, ma, ma Ma secondo voi Se quello non si è fatto niente Con dei baliri Baliri Barili Esplosivi Che schifo Ah no Giustamente pure lui è di piombo Beh Fox è andato Rimane buoni e freddi Adesso do il prezzo di uno Ah no Scappano Bene Stanno più al sicuro Adesso Direte voi Ma Secondo me no Adesso sponeranno gli altri In prigione E loro come dei Beotili Libera Oh God God Da Siete sopravvissuti A robe peggiori Non potete morire così Dai Cic È stata addirittura Freddy Non sei più combattere Ale Ah no Non è morto E Cic È ancora viva Mi state prendendo in giro Pure Foxy Se Vivo pure Monty Giuro che io Denuncio Il creatore di questa animazione Ok Poi ne è andato Cic Sta per essere buttata Adesso Ecco appunto Figuria Ah beh Dentro È tanto bella Carne al forno Finita così Veramente E appunto È Figuriamoci Figuriamoci No No 3 di 3 di Quello Penso che l'abbiamo fatta apposta Va bene Va bene Prossimo Ok Marvel Contro Contro dead rock Vediamo se i dead rock In questo video Moriranno Almeno una volta Secondo me no E proprio per questo E proprio per questo Secondo me Vinceranno Comunque ragazzi Giuro Queste qua Non le ho mai viste Sono nuove Questo qua Penso che sia Balloon Boy Anzi è sicuro Per forza Wow Un sasso Che cavolo di supereroe È quello Ah è Atom Da quando Atom Può ingrandire Non pensavo che Atom Fosse così forte Mamma mia Ah beh Balloon Boy Non muore mai Si sa È ancora vivo O almeno Nel O almeno Nelle mie orecchie La lotta Attacchi al fisico Più bestiale Sfida accettata Uno è Hulk L'altro è un Super Mach De Rock Si è incazzata Se la schiena Non la dovevi mordere Non penso che si farà uccidere così facilmente Appunto Cioè Hulk è Hulk E Chica è una scema Questo è Sputer Sputer Bon Per come ragiono io Il primo che attacca È quello che deve morire Poi il secondo Dovrebbe passare il torto Ma è stato attaccato Quindi si deve difendere Giustamente Però ci sei tu Non hanno fatto niente E tu che gli sei entrato in casa Sputer Bon Poi ci sta pure Che te fichi la badosta Un fucile Ma veramente Hai sensi di ragno Stupida Lo dovresti sapere Ah giusto Probabilmente Tu sei stata creata Un anno fa Quindi Mamma mia Che voce D'Angelo Che stavi a fa Ah Il breast ring Uno Due Tre Vittoria Ecco qua Che ca... È su Ah Doctor Strange Giustamente è Foxy Wow Il primo che mi farebbe Penso a Doctor Strange Bravo Sim De mente Sìiii Mamma mia Ti devi tagliare Lo sto Mi ha risposto da solo Ok E questi qua sono Ah con Drogarden of Bambam Tre Tre Sì ma muori C'è brutto schifo Cioè Bonnie giustamente è sempre ignaro di tutto Va un attimo a vedere se i suoi compagni stanno a morire di freddo o di fame Mentre lui si sta buffando di panna dietro Arriva e vede Sto ragno Sto ragno bidorsoluto Ok Penso di essere traumatizzato a vita Tiragli un colpo Dai Foxy Di sicuro l'ammazzo Cioè questo qua tecnicamente non è un rob Dovrebbe essere morto Ecco il nano E il nano è piccolo ma forzuto Attento Foxy E Bambanena Era bianca L'ho detto che era forte questo Ma nessuno mi ascolta Ma Freddy è ancora là dentro Sì è ancora là dentro Bambam Rimani là dove stai guarda ci fai un piacere Rimani nella tua stanza dove Parli attraverso il microfono Che ci fai un grande piacere Ok Calcio in faccia Calcio nel cul Pugno in faccia Pugno in faccia Lancio dell'animatronico Lo conoscete ragazzi Il nuovo sport Lancio dell'animatronico Punto it Se volete iscrivervi A una competizione In poche parole Sì è ban Mamma mia Ma è horror Vabbè Foxy Usa quel Usa quel coso Che ti ritrovi al posto Della mano robotica Per favore Eh ma me ne è fatto bene Un po' con gli occhi insatanati Ma tanto ne è satana Quindi Chi se ne importa È perfetto così No vabbè raga Chi la conosce questa voce Vi do tre Anzi Cinque secondi per Andare sotto a rispondere E stoppare il video Uno Due Tre Quattro E cinque Bene ragazzi Questo qua È five night Custom night Dice Please Su please Che dovevi Spendere Dargli cinque coin Questa non la conosco Gli dovevi dare cinque coin Oppure ti ammazzava Quindi Praticamente Entravi là dentro La tua stanza E ti diceva Questa è una rapina Sì vabbè ma sta qua È uno scimpanzè Per come Atletica Manco la Eh 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 Suka Prenditi la peste Ah forse è meglio La peste nera Si abbina di più Al tuo nuovo colore Godo Tra che sono Creepy animatroni Ok quindi Animatronici Creepy Non parlare così Freddy Che mi mette paura Comunque ragazzi Posso dire Tra i dead rock Freddy È l'unico decente Cioè questa qua È veramente Orribile Chica È la seconda Più figa Secondo me Ma Monti è orribile Cioè È uno di quei Pupazzi allungabili Cioè Non è un robot Cioè Secondo me Monti in questa Versona È il più brutto Cioè Freddy E beh E beh giustamente Figuriamoci Se un rockettaro Non c'ha Al posto delle mani Due motoseghe Ok ragazzi Piccole interruzioni Non è da qui pensare Dopo questo video Finisce l'animazione Mi sa che ci ho messo un altro Ma Se no dura troppo E non lo riesco a caricare Mi dispiace Vabbè La terremo per un'altra animazione Ragazzi Mi raccomando A 5 like Anzi Siccome Spero che questo Vada bene Come l'altro Non dico Come l'altro Proprio Di tanto Ma almeno La metà delle sue visualizzazioni Sarebbe top Ragazzi Se arrivano almeno a 10 like Pubblicherà la nuova Reaction E secondo me 10 like Li merita Ogni reaction Che ci vuole un botto A farli Ma Ma questo qua Non sarebbe Freddy E questo è Mangol E' chiaramente Mangol Questo Questo è Mangol Con la testa Di Freddy Dunque ragazzi Mi raccomando 10 like Prossima animazione Eh Ok Dai forse Riescono a finire Senza Essere stati battuti Nemmeno una volta Anzi Una volta Sono stati battuti Dalla Marvel Certe volte Li fanno Veramente Forti Cioè Per esempio Freddy Deadrock All'altro video Era un Pezzente Cioè Dirava solo Pugni Invece Questo qua C'ha le motoseghe Al posto Delle mani I poteri Si sbloccano Ogni video Ogni video Si diventa Che culo Vai Mi arriva Da dietro Beh No È il combazzo Mi farei giusto Voglio capire Cos'è Esploso Ma vabbè Vabbè Poi mi dite The Rock Cioè Cioè Ragazzi Poi dicono The Rock È forte Voglio Vederli Vabbè Ragazzi Ci teniamo Questo video Dei Corrotti Contro Quelli Mi raccomando 10 like Prossima animazione E il primo Sarà proprio Questo video Mi raccomando Ragazzi Lasciate like Iscrizione Campanellina E da Jacob Bosch È tutto Ciao Ciao The Rock Grazie a tutti